Marcato, un assessorato impegnativo in uno dei momenti più difficili della storia economica della Regione. Sì, il peso della responsabilità qui è davvero enorme, perché ovviamente dopo la crisi pandemica socio-sanitaria, l'altra è quella economica. E avere il referato che parla di questo, che tratta questo tema, è davvero una responsabilità enorme. E noi abbiamo l'obbligo morale, etico, amministrativo di aiutare le nostre imprese a sopravvivere e a continuare ad avere una prospettiva economica. L'incertezza è nemica dell'economia? Assolutamente sì, e qui abbiamo anche un nemico che per quanto lo stiamo studiando continua ad essere un enigma, non solo nella sua struttura, ma nelle conseguenze. Il governo parla di possibili lockdown, io non voglio nemmeno immaginare, cioè non è possibile che di fronte a un problema noi cerchiamo sempre la via più breve. Perché è chiaro che se noi chiudiamo tutto e rimaniamo tutti a casa non c'è contagio, ma non può essere questa la soluzione. Quello che io chiedo al governo è di immaginare prospettive, strategie diverse, perché sono possibili. Grazie a tutti.